Siamo a Palazzo Mezzabarba in sala consigliare con Clara Baggi, presidente dell'associazione Agal. Un'associazione molto conosciuta in città, però vale la pena di tornare a ricordare, a raccontare cos'è. Agal significa Associazione Genitori Amici del Bambino Leucemico. La nostra sede è nella pediatria del Policlinico San Matteo e ci occupiamo da ben 32 anni di ospitare, sostenere economicamente e aiutare le famiglie dei bambini oncoematologici che vengono a curare i propri figli alla pediatria del Policlinico San Matteo, nell'unità operativa di oncoematologia pediatrica. Ecco, una lunga attività e oggi una giornata importante perché siamo appunto qua a parlare di Casa Mirabello. Sì, Casa Mirabello, questo immobile che il comune attraverso un bando ha scelto di destinare all'Agal, attraverso un bando pubblico, che noi ci siamo giudicati, diventerà una residenza di 10 camere con servizi igienico-sanitari, una cucina comune, una sala living, la nostra segreteria, dove appunto ospiteremo circa, avremo circa 23 posti letto, insomma, quindi una decina di famiglie. I lavori sono partiti, noi speriamo appunto che termineranno entro l'estate, se tutto va bene faremo l'inaugurazione a settembre. Luigi Greco, capo di gabinetto del comune di Pavia, assessore ai lavori pubblici, quando il progetto Casa Mirabello ha preso il via fino appunto alla giornata di oggi in cui si sono andate a presentare le ultime novità, ovvero la posa della prima pietra. Esatto, questa è una di quelle cose, ho detto prima, di cui si va fieri. È stata un'intuizione che abbiamo avuto insieme all'Agal, quella di trovare uno spazio dove poter esercitare e soprattutto dare un servizio così importante a gente che ha già dei problemi importanti e quindi parte da posti lontani e ha bisogno di punti di riferimento. Abbiamo fatto un bando, Agal ha partecipato a questo bando, si è giudicato a questo spazio di 500 metri quadri e su questo ha investito tutte le proprie risorse insieme anche a un gruppo di finanziatori, quindi è nel cuore la Banca del Monte di Lombardia, la Cariplo, l'IKEA stessa e si è venuto fuori un progetto bellissimo con 10 stanze che possono accogliere 23 bambini con rispettivi genitori e una serie di servizi all'interno di questa struttura di sostegno appunto alle famiglie che si trovano in situazioni particolari come queste. ecco perché dico che questa è una cosa per cui un amministratore davvero ricorda e ne va fiero anche. Siamo con Sandro Assanelli, Francesco Brendolise, rispettivamente assessori al Comune di Pavia e alla provincia con deleghe corrispondenti, si parla di volontariato, servizi sociali, associazionismo. Ecco, Casa Mirabello è proprio una sintesi di tutto questo? Sì, Casa Mirabello è stata concessa non quello dal Comune, non quello dall'associazione non quello Agal per un disegno non quello veramente non quello molto significativo non quello per la nostra città. Agal sappiamo tutti che è un'emerita associazione non quello Onlus che si occupa non quello dei soprattutto di aiutare non quello i bambini leucemici e i loro genitori, non quello parenti, non quello che ovviamente sono in condizioni economiche precarie e non possono quindi pagarsi non quello una pigione. Ci sembrava non quello giusto non quello da parte non quello del Comune a fronte di una richiesta, non quello a concedere non quello a questo spazio, non quello che è una ex scuola, proprio per le finalità non quello appena descritte. E quindi nel principio non quello della sussidiarietà non quello che il Comune è venuto incontro non quello alle loro esigenze e quindi aspettiamo non quello ora il mese non quello di settembre dicono loro del 2014 ma noi speriamo molto prima non quello di vederne l'inaugurazione di queste non quello dieci stanze non quello quindi per ospitare non quello dieci ospiti, non quello dieci genitori e anche dieci bambini dunque allora in modo che anche il progetto Nucleosanità che è un polo di eccellenza del Comune di Pavia trovi anche in questo uno spazio molto interessante. Ecco istituzioni, terzo settore, associazioni, privati, una vocazione importante del territorio di Pavia? Certo, è una vocazione che nasce da un'altra vocazione che è quella dell'eccellenza sanitaria della nostra città, del nostro territorio. A un'eccellenza sanitaria corrisponde chiaramente un pellegrinaggio anche di speranza per avere le cure migliori e dietro a questo c'è anche questa esigenza di ospitare talvolta persone che provengono non solo dalle regioni d'Italia ma provengono anche da paesi in via di sviluppo e che quindi spendono tutte le risorse che hanno per le cure e non hanno proprio nulla poi per poter essere ospitati anche per periodi lunghi. Allora il volontariato pavese è stato straordinario in questi anni a costruire una rete che dia la possibilità a queste persone di essere ospitate, di essere ospitate per tutto il periodo di cura. Nello specifico Agal che è un'associazione importante che opera nel nostro territorio da oltre 30 anni quindi è un'associazione che ha anche una sua solidità e ha accettato questa sfida che è stata una sfida lanciata dal Comune di Pavia. Secondo me è una sfida anche corretta perché gli immobili pubblici, il patrimonio pubblico è giusto che venga anche utilizzato non solo per far far cassa come si dice ma anche per queste finalità, per questi servizi che sono servizi pubblici, sono servizi per tutti quindi un in bocca al lupo ad Agal soprattutto in questo momento che si sta affrontando un momento importante anche per un'associazione perché questo è un grande investimento e ci vuole coraggio quindi è il coraggio che c'è nel volontariato e il cuore che il volontariato della nostra città ha sempre insomma.